Ciao, in questo video ti dico ciò che andrai a ricevere in questo rilascio. Avrai tre cartelle, canzoncina, jingenberg, quindi se la andiamo ad aprire ci sarà un video dove ti vado a dire come si suona la melodia e qui ci avrai anche lo spartito. Poi abbiamo la cartella di teggiatura, scala cromatica, scala di do maggiore. Quindi in questo video ti vado a dire la giusta diteggiatura per suonare la scala cromatica e per suonare la scala di do maggiore. Avrai anche la scala cromatica sul rigo musicale. Qui ti faccio un esempio della scala cromatica, ti scrivo il nome della scala cromatica e la diteggiatura. Quindi i numeretti sopra alle note sono per la mano destra e i numeretti sotto alle note sono per la mano sinistra. E abbiamo anche lo spartito per la scala di do maggiore, ti ho messo le note e quindi qui ci avrai la diteggiatura per la mano destra e sotto la diteggiatura per la mano sinistra. Quindi queste due scale sono da studiare. Poi ti ho messo un video sugli arpeggi. Quindi qui ti vado a dire il discorso degli arpeggi, avrai sempre lo spartito, dove ti vado a scrivere le note per ciascun arpeggio e la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra. Ok, penso di aver detto tutto. Ti saluto e ciao!